io bentornati sono napoli football ragazzi veniamo da quattro vettore di fila un trend positivo che vorrei tanto mantenere vediamo se ci riusciamo andiamo a cercare subito il prossimo avversario e come sempre se vi fa piacere lasciando un like al video iscrivetevi al canale commentato per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere detto ci voglio vediamo chi ci capita vediamo se riusciamo a continuare questa striscia positiva e se riusciamo ad accumulare abbastanza punti da salire sempre di più verso la divisione 2 e sarà trabnozzo sport napoli trabnozzo sport napoli andiamo in turchia maglia nera interessante maglia nera interessante maglia nera vediamo se ragazzi come stanno lo posta bene tutti bene porca troia meretto on fire d'altronde dopo la partita di san siro ci può stare loro giocano 4 2 3 1 sostanzialmente molto offensivo va bene va bene andiamo al match si parte si parte ragazzi trabnozzo sport napoli battono loro con a land provano a partire subito subito aggressivi con pmp attenzione proverà andarsene pmp va a chiudere natan ma pmp se ne va entra in area cross in mezzo lo botca la mette fuori poi zedischi va ad anghissà politano dentro però simen che non riesce a prendere palla lobo break di lo botca prova ad alzarla verso simen niente da fare così va in pressione attenzione qui colpito politano che può tornare sulla palla matteo politano dribbling di politano che se ne va al cross in mezzo arrivo simen che la schiaccia partiamo forse anche noi prova a schiacciare subito osi rilancio lungo verso land prova a dare fastidio racmani palla palla arrivato simen palla per anghissà anghissà dentro per osi dentro per caraschelia 1 a 0 subito caraschelia nono gol stagionale per crece a caraschelia 1 a 0 napoli ragazzi passiamo sul trap attenzione prova ad andarsene ternandez prova a chiudere di lorenzo non ci riesce subito la palla arriva da anghissà che prova ad andarsene errore qui di lorenzo gran lettura riparte giannino di lorenzo palla per zedischi chi allarga per politano che prova a dribblare fermato da marchinhos attenzione proviamo a leggere ma loro riescono ad andare fin dentro fino da holland c'è natan e poi raccomani allarga per caraschelia che l'ha dato simen tacco per zedischi che prova ad andarsene pietro zedischi dentro però simen che la dà a caraschelia che si ferma dribbling non riuscito gorexca lo stoppa subito pimpè chiusura del maestro su pimpè poi prova ad andare da zedischi anghissà vada lobotka cerca politano che va dentro da victor osimen la palla non arriva victor di lorenzo break potenta di giannino di lorenzo che va dentro rosimane che si gira attenzione anghissà zedischi vada a caraschelia riceve bene il caressa che ricevono bene tutti zedischi anghissà osimen tacco per politano che azione ragazzi trema il trap nozzo sport mario 2 prende ancora pallarui dentro da anghissà la palla non arriva ma zambo la recupera osimen tacco per politano la palla non passa osi zedischi ancora si salva il trap nozzo sport qui provano a ripartire adesso fortissimo con di lorenzo che deve andare a chiudere insieme il racmani ritorna di lorenzo palla dentro lo bocca e poi anghissà la mette fuori da caraschelia che l'ha dato si menna vada anghissà che cerca caraschelia dall'altro lato attenzione megnana partita divertentissima fina dura megnana rilancia palla per natan che colpisce di testa prova a ripartire il trap adesso attenzione palmer ma in chiusura di lorenzo palla fuori bene così di lorenzo palla per raccomani che provano ad andare lungo malissimo ma arriva osimen che provano a recuperare la palla attenzione provano ad entrare loro grandissima chiusura di anghissà che va da zedischi appoggia osimen che se ne va osimen fa correre caraschelia se ne va clara 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 si ferma dribbling di caraschelia dribbling ancora rigore guadagnato da criccia caraschelia ragazzi con un doppio dribbling rigore che tirerà victor osimen parte victor dal dischetto la parata di megnana errore di victor dal dischetto ragazzi ripartire il trap nodo sport chiusura di raccomani ci divoriamo con victor un'occasione incredibile di lorenzo in chiusura palla ancora per loro attenzione prona ad attaccare vanno dentro con l'uno due prova a chiedere il genio di lorenzo entra a fare raccomani torna di lorenzo niente da fare fin dentro e mario rue e poi zierischi sulla palla di anghissà attenzione provano adesso a schiacciarci loro di lorenzo niente da fare palla dentro un po di confusione da parte nostra qui cross in mezzo natan non riesce a saltare oland per nostra fortuna attenzione mario rue a recuperare palla rue attenzione provano ad andare dentro zierischi dovrà palla caraschelia ancora per zierischi vada anghissà perde palla zambo anghissà attenzione di lorenzo deve chiudere su vinicius riparte vinicius junior attenzione giannino di lorenzo in chiusura di lorenzo gran lettura di giannino e poi osi man fa correre matteo politano si ferma matteo politano dentro e vada anghissà che purtroppo viene un giocatore sempre pericoloso fermato leo gorexca attenzione politano ancora dentro per caraschelia e non pensavo che non fosse passata la palla ragazzi attenzione mario lui natan non c'è fallo dice l'arbitro attenzione oland pedri chissà di lorenzo errore di giannino però troppa fretta qui attenzione palla dentro e poi di lorenzo raccomani rilancia lungo osimena appoggia per politano che la dada anghissà che prova ad andarsene anghissà dentro per la osimena niente da fare finisce il primo tempo col vantaggio di caraschelia all'ottavo ragazzi bene così abbiamo abbastanza dominato siamo riusciti un po ad annullarli si riparte osimena palla verso lobo che allarga subito per mario rui cerchiamo subito di scendere con i dischi palla per lui ancora vadalo botca cerca anghissà va dentro dosimena si fa anticipare la costa curta attenzione anghissà non riesce a recuperare questa palla vinicius chiude di lorenzo due volte ma niente da fare chissà raccomani dei vichitori su ternandez c'è il lobo sul colpo di testa di cristiano ronaldo lobo contrasta e palla fuori meret va verso simena che prova a staccare attenzione riparte il trap noso sforro con ronaldo palla dentro e raccomani rilancia lungo con osimena che riesce a staccare niente da fare ci schiacciano un po' loro mario rui arriva e poi con la schiena dentro per osimena riescono ad andare loro in verticale adesso palla larga per pempe sconnatan che prova a chiuderlo pempe natan su pempe ziedischi in chiusura niente da fare pedri dentro incredibile fanno tutto alla grande meret meret fanno tutto alla grande ma meret chiude la saracinisca sul primo tiro del trap noso sforre calcio d'angolo vanno loro anghissà prova a staccare niente da fare di lorenzo la mette fuori e poi politano vada osimena che allarga per anghissà che la dacca varascheli a dribbling di clara che la riappoggia ad anghissà troppo troppo leggeri qui varascheli a prova a dare una mano adesso in difesa a mario lui la grande e la dirà ancora ancora schella che appoggia nanghissà che la dà ziedischi che fa correre cavara gran contropiede valla ancora per ziedischi che entra in alea verso politano megnan la para contropiede incredibile come forse meritavamo un po' di più attenzione raccmani lobotka prova ad andare a chiedere su vinicius giovane ora attenzione lobotka chiusura incredibile però poi vinicius se la va a riprendere di lorenzo attenzione anghissà attenzione qui brutta palla mamma mia rischiamo tantissimo rischiamo tantissimo una grande imbucata per ronaldo io mi rischiato davvero tanto ragazzi meretta andrà a rilancio lungo serve qualche cambio con osimen che prova a staccare cavara schella ancora per osimen cerca poi zielischi non riesce a darla a cavara purtroppo attenzione palla larga per pimpi prova mario lui ad andare in chiusura e poi mario lui prova a spazzare per evitare problemi parla verso politano che riesce a colpire osimen per anghissà che fa correre matteo politano se ne va politano dentro per osimen che entra in area gliela ridà politano cerca anghissà dentro per vittor che è in fuorigioco e quindi andremo a fare qualche cambio andremo a fare qualche cambio attenzione con zielischi che è chiaramente stanchissimo metteremo un gong posto di politano fuori zielischi dentro dentro junior traurè a me traurè e metteremo anche ca giuste dentro al posto di anghissà che è pure stanco lobo olivera al posto di mario rui chiaramente e bla 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 mazzocchino potrei mettere osticard al posto di natan che è molto stanco ora di qualche imbucata ragazzi facciamo così osticard che è stanchissimo dentro al posto di natan mettiamo anche leo cambiamo un po' di giocatori megnana rilancio lungo raccomani a staccare osimena appoggia per traurè che allarga subito per cavaraschelia che dribla cavaraschelia può sparare cavaraschelia la parata di megnana gonga adesso recupera palla palla dentro per lobotka niente da fare prova a ripartire il trap nozzos por di lorenzo lobotka errore di lobo qui attenzione provano a ripartire l'oro di lorenzo riprò una gran palla raccomani dentro traurè palla per lobotka palla magica lobo dentro per gong che prova a crossare in mezzo attenzione osimena calcio d'angolo calcio d'angolo guadagnato da victor lobotka andrà da amir raccomani che proverà a rimetterla dentro rosimena niente da fare a vissà no e traurè gli sta esciuto giustamente attenzione caciuste poi olivera poggia per ostigar che prova ad alzarla verso victor rosimena che cerca traurè che prende palla traurè l'appoggia a caraschelia errore qui l'abbiamo gestita malissimo caciuste grado di cura palla attacco per traurè palla per caraschelia dentro per rosimena palla per lobo che va dentro d'angong che prova ad entrare in area di rigore si ferma dentro per lobo prova a rientrare niente da fare lobo però recupera palla alla grande vada caciuste che vada caraschelia dentro per osimena niente da fare opportunità di ripartire provano a ripartire loro con caciuste che prova a recuperare ostigar d'olivera spetta lì attenzione ronaldo palla dentro meret e ostigar la mette fuori caciuste traurè allarga per caraschelia lo bocca cavara attenzione olivera recupera palla caraschelia lo bocca dentro per traurè che si ferma perde palla traurè lobo ancora break di lobo caciuste errore di caciuste ragazzi attenzione palla dentro nemmar ostigar raccomani e poi di lorenzo spazza verso osimena che prova ad andare da traurè sbaglia tutto caciuste errore di caciuste troppi errori verso questa fine grandissimo ostigar palla per traurè osimena 1-2 se ne va traurè allarga per caraschelia che va subito dentro da osimena ma non si ci fa tutti i megnan che rilancia lungo di lorenzo a svettare caciuste se in chiusura niente da fare di lorenzo deve andare e perdono palla loro bene così bene bene così di lorenzo che va da ngong che prova a spazzare traurè per osimena prova ad allargare arriva caciuste caraschelia osimena caraschelia dentro prova ad andarsene può andare a chiuderla caraschelia spara la parata niente da fare gong recupera questa palla finisce qui ragazzi 1-0 alla fine di una partita comunque divertentissima 1-0 sul trap nososport acuto di caraschelia all'ottavo del primo tempo ragazzi ci fa guadagnare la quinta vittoria consecutiva bene 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 così saliamo di 30 punti e ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti